Come si? Buongiorno, io sono Momo e ho saputo mi chiamato il vostro video play Lei è Miyoko, è il mio personaggio E io mi sono dimenticata di farmi vedere il diario Dove potete scrivere le vostre cose, ecc, ecc, ecc Qui, se andate tra questi triangolini qua, potete vedere tutto quanto Tutto 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 Per esempio, Maffoil Quanto è bello Ok, lo smettiamo Poi, vabbè Poi, andiamo qui, ci sono tipo le slot Le slot a casa E questa è tipo la vostra descrizione Qua potete fare la discussione Oppure qua ci sono io film, ok Qui poi sei nata e qua Bella, bella, bella Ok, e questa è tipo la descrizione E tale femmine Italiana, femminile Lo comprano E non ci comprano io Ho contato i giorni Sono studente, va bene Qui potete scegliere i vostri regali Per esempio Per esempio, togliamo questo qua E prendiamo un po' di gallo, chezzo Scusate, bella, 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 so Si carica magari un pompe Bustacche No, 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 no Non voglio, non voglio Ok, seguiamo Cosa, chezzo Cos'è questa roba Ok, che cosa possiamo seguire Nananana 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 Oh, oh, oh E mangiare poi Io sto con le nuvole Vabbè E poi potete scegliere i vostri regali Suana nel tempo la sveglia Perfetto Qua poi, vabbè, sta tipa qui si deve scegliere Perfetto 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 Vabbè Andiamo a fare un gerettino Non lo so dove Ma andiamo a fare un gerettino Se si stacca con la cavolo di sveglia Ok, andiamo aaaah Lo vediamo No No Oh Ok No Che commiglia guai Dove facciamo andare Dove possiamo andare Dove possiamo andare Dove possiamo andare Andiamo a Linear City Che Ci sono sempre I codici Perfetto Perché se non botta di gente A me non mi va Oh, adesso la gente non la odio Però Dopo affollato Mi fanno fastidio Ok Questa è tipo Gramma Qui si Che Quanto è gigante Ma Sono sparita Ok Andiamo Comunque se gli scalinate Si è in gioco E' già poi in gioco Quindi Non vi impressionate No No La notte è che qua Si è tipo La cosa Prima E' dopo Cosa Impossibile Dove 70 setti Fai una plastica Facciale Di fare queste cose Però Allora Siamo zitte Qui Possiamo sedersi Qui c'è una tipa Che Abita qui Vedete la mente Questo è il concetto Di Legali Perché Legali Perché Sì No Non è legale Però Sono dei tipi Sì Stati qua Qui E' inquietante Ecco Appunto Se si spiega Magari Grazie Ok Aspetta Aspetta No No Ancora qui A scuola Ma Io penso a lui Che adesso è qua Oh 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 Immondezire poi Io tocco le nuvole Ma il sole accenderà Ed io diventerò Miracolo C'è pure energia Non me la ricordo più Ma Ci devi arrendere E' un gatto che sta bene Ma di noi Penso solamente Lei Ok Aspetta Perché sono stonata Così vi strumentate Sentiamoci un po' Ne barri Hello kitty Hello kitty Che Che Kawaii Aspetta Se sei un tipo Po' inquietante Sono Yuko Yukio 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 Ok Aspetta E vabbè Questo sviaggio Di cose varie Spero che venga su E noi Ci vediamo Nel prossimo video Ciao